L'Otteria Italia avara di grandi vincite per la Sicilia. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato infatti venduto a Roma. Il secondo da 2 milioni di euro a Senigalli, in provincia di Ancona. Il terzo premio invece a Caserta. Nell'isola soltanto premi di consolazione, che comunque hanno fatto felici due comunità, quella di Calatabbiano e di Fiumefreddo di Sicilia. Biglietto vincente di seconda categoria a Calatabbiano. La serie è I196215. Il tagliando è stato venduto in questa tabaccheria di Via Vittorio Emanuele. Soddisfatto è il titolare. Sono felice per chi sicuramente avrà avuto la fortuna di acquistare il biglietto da me. Speravo sicuramente in un biglietto più polposo, più consistente, ma tutto sommato va bene anche così. E la prima volta che accade nella sua ricevitoria? No, c'è stata già una vincita nel 2013, una vincita di 500 mila euro con un grattevinci. Cominciamo bene. Ha qualche idea, qualche avvisaglia di chi potrebbe essere vincitore? Magari un paesano o qualcuno di passaggio? Francamente se oggi dovessi dire chi ha vinto il biglietto non mi posso esprimere in merito in quanto non ho assolutamente idea. Centro complessivamente i premi di terza categoria da 25 mila euro. Uno di questi è stato vinto a Fiumefreddo di Sicilia. La serie è la E106455, tagliando venduto nella barra tabaccheria Elite di Via Umberto a Fiumefreddo di Sicilia. Una ricevitoria non nuova a vincite milionarie. Hanno vinto diverse volte, 2 milioni di euro quattro anni fa, poi 256 mila euro due mesi fa, 25 oggi, poi 10 mila euro tanti premi. Senta, ha idea di chi possa essere il vincitore? Un paesano o uno di passaggio? Questi biglietti li mandiamo a tutti, specialmente quelli di passaggio, che sono come a noi, li andiamo a comprare fuori, di fuori li vengono a comprare qua, non si sa. E comunque è una bella soddisfazione? Certo, così vogliamo comprare per vincere.